Buongiorno, martedì 14 dicembre entriamo nel club della settimana finanziaria perché oggi inizia il consiglio direttivo della Federal Reserve che si concluderà domani 15 dicembre quando alle 20 in Italia all'incirca avremo il dettaglio della politica monetaria degli Stati Uniti e scopriremo se la Fed avrà deciso di aumentare il tapering, cioè la riduzione degli stimoli dai 15 miliardi al mese a 30 miliardi, in questo caso è probabile che chiaramente andranno poi, la Federal Reserve avrà più margine per alzare i tassi di interesse nel corso del 2022 perché attualmente è previsto che il tapering, cioè la riduzione degli stimoli terminerà a giugno ma se verrà ampliato il ritmo chiaramente il tapering terminerà prima marzo-aprile, dipenderà dall'aumentare dell'eventuale importo deciso appunto dalla Federal Reserve proprio domani. Gli investitori attendono questo con molta trepidazione, conoscono che non è un dettaglio questa notizia della Federal Reserve perché se non fa nulla di questo passo il primo eventuale rialzo dei tassi sarà dopo giugno, se invece aumenterà il tapering e quindi terminerà gli stimoli magari a marzo potrebbe avere più tempo, più mesi per cominciare ad alzare i tassi e magari gli investitori inizierebbero eventualmente a scontare non due, non tre, forse quattro, chi lo sa, rialzi dei tassi nel corso del prossimo anno. È tutto molto prematuro, chiaramente i mercati si muovono d'anticipo, d'aspettative e chiaramente gli incontri come i consigli direttivi delle banche centrali sono molto importanti per andare ad aggiornare le aspettative dei mercati. Prima di approfondire però questo argomento vi invito come al solito a iscrivervi al canale, stiamo crescendo ma mi auguro che davvero si cresca ancora molto di più, ancora molto più in fretta e quindi vi invito anche a condividere questi video anche in rete e poi anche a cliccare sulla campanella per restare aggiornati. Inoltre per approfondire queste tematiche e tante altre che tratto tutti i giorni sul Sole24ore vi invito appunto a leggere i miei articoli e lascio il link in descrizione. Oggi però visto che si parla di banche centrali in questo video vorrei farvi un discorso sul tema del contesto. Ogni investitore deve avere sempre a mente il contesto di riferimento perché ogni periodo non è uguale all'altro e quindi in questo momento per capire meglio il contesto vorrei farvi vedere questo grafico che rappresenta la percentuale di titoli di Stato, quindi government bonds, detenuti da parte delle banche centrali in percentuale rispettiva dell'area economica. Quindi abbiamo in questo caso il confronto fornito da Robin Brooks del Fondo Monetario Internazionale su Twitter tra Stati Uniti, Eurozona e Giappone, quindi le grandi tre aree economiche esclusa la Cina, le più grandi tre aree economiche industrializzate al mondo e abbiamo qui questo grafico molto interessante a mio avviso che fa capire che il Giappone in questo momento è il paese dove la banca centrale ha più bond in percentuale del PIL del paese, siamo praticamente al 40% ed è tallonato dall'eurozona che sta arrivando quasi al 40% e superiore al 35-37% e invece gli Stati Uniti, la linea azzurra, siamo intorno al 25% di bond posseduti dalla Federal Reserve, in questo momento nel bilancio della Federal Reserve in relazione al PIL degli Stati Uniti. Quindi questo grafico ci fa vedere che innanzitutto l'Europa, quando si dice l'Europa si sta giapponesizzando, qui è la conferma grafica perché chiaramente il Giappone è stato il primo, la prima area, la prima banca centrale ad avviare queste politiche molto 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 espansive e da un punto di vista appunto dei tassi bassi e poi fino ad arrivare anche al quantitative easing che ha avviato quindi in modo molto molto forte e adesso la banca centrale del Giappone di fatti detiene il 40% dei titoli giapponesi di Stato, quindi il debito del Giappone in rapporto al PIL e per gran parte in mano alla banca centrale. Gli Stati Uniti sono in realtà molto dietro rispetto all'eurozona che è decisissima al Giappone, vedete la banca centrale europea detiene tantissimi tantissimi bond che corrispondono quasi al 40% del PIL dell'intera area euro e quindi questo significa che in teoria gli Stati Uniti hanno più margine se vogliamo per continuare nelle proprie politiche espansive ma nonostante questo sono i primi ad avviare il tapering, cioè provare a ridurre questi questi stimoli. Allo stesso tempo ci dice che questo grafico è sempre più difficile farlo tornare indietro. Ci hanno provato i Stati Uniti tra il 2014 e il 2020 poi ci ha pensato la pandemia a rispingere la banca centrale a espandere e quindi a stampare moneta, comprare debito eccetera eccetera. Quindi è molto molto interessante secondo me contestualizzare il momento anche perché quando si parla di investimenti in obbligazioni e di rotazione dei portafogli dal mercato azionario al mercato obbligazionario bisogna capire che il mercato obbligazionario in particolare quello dei government bonds in questo momento è un mercato viziato, drogato dalla presenza di un attore che di solito non dovrebbe essere così presente, cioè le banche centrali che per sostenere le economie, per sostenere i paesi in difficoltà in base alle varie crisi si sono introdotte in questo mercato in modo violento e quindi hanno praticamente detengono oggi una buona fetta del debito pubblico di questi paesi. Quindi considerare i titoli di Stato titoli alla pari di altre obbligazioni e oggi potrebbe essere un errore perché appunto si tratta di titoli il cui rendimento, il cui prezzo che è inversamente proporzionale al rendimento è distorto dalla presenza di questo attore. Chiaramente più le banche centrali sono presenti più i tassi tendono a scendere, più i prezzi tendono a salire e allo stesso tempo più le banche centrali sono presenti meno e presente la speculazione. Quando è che c'è stata la speculazione sul debito pubblico italiano con lo spread che era arrivato a quasi a 600 punti base, lo spread tra il BTP e il Bund nel 2011 e poi anche nell'estate del 2012, quando la banca centrale europea non aveva ancora avviato il quantitativismo, non aveva ancora detto chi avrebbe appunto comprato i titoli di Stato e quindi a quel punto gli speculatori hanno visto un vuoto di mercato, un buco o comunque qualcuno in difficoltà e lo hanno azzannato e quindi portando in questo caso il debito, i rendimenti dei BTP alle stelle. Non appena c'è stato il cosiddetto whatever it ex di Draghi nel luglio del 2012, lo scenario è cambiato perché a quel punto gli speculatori si sono fatti da parte perché non si sognano certamente di mettersi contro qualcuno che è matematicamente più forte come una banca centrale che è una potenza di fuoco in teoria illimitata. Quindi questo grafico ci dice che nel momento in cui la settimana delle banche centrali, in cui si parla di tapering, di riduzione di tapering eccetera eccetera, però teniamo sempre a mente questo grafico e la forte presenza oggi delle banche centrali nei government bonds dei rispettivi paesi e teniamo anche presente che quando si va a fare tapering, cioè a ridurre gli stimoli, non è detto che poi non è che cali la presenza della banca centrale sui titoli di Stato del Paese perché il tapering va semplicemente a dire ne compriamo di meno, ma continuiamo a comprarli fino a che non ne compreremo più, quindi si azzereranno gli stimoli e quindi il tapering andrà ad annullare il quantitative easing, cioè l'espansione monetaria. Però in realtà un pezzo di quantitative easing rimane finché la banca centrale annuncia anche che non andrà più a comprare i bond che vanno in scadenza, perché quello è un altro pezzo, cioè quando i bond che una banca centrale detiene e vanno in scadenza, normalmente salvo diversi annunci, essa va a reinvestirli, quindi va comunque a rimettere nuova liquidità per reinvestire i bond sui bond che vanno in scadenza. Quindi il tapering è un passo importante per la riduzione degli stimoli, ma la riduzione completa avviene quando una banca centrale indica anche che non andrà a reinvestire i bond che vanno in scadenza. Quindi questo va tenuto sicuramente a mente. Volevo anche farvi vedere quest'altro grafico, sempre dal fondo Robin Brooks, del Fondo Monetario Internazionale, che dettaglia per quanto riguarda lo stesso tema, però i singoli più importanti paesi dell'area euro, qui siamo adatti relativi al terzo trimestre del 2021, quindi abbastanza aggiornati, ed è interessante capire che in questo momento la banca centrale europea, tramite la Banca d'Italia, detiene quasi il 45% di PTP rispetto al PIL italiano. Quindi è il paese, l'Italia in questo momento, che dal punto di vista degli interventi di sostegno della banca centrale, sostegno tramutato in acquisti di bond, è quella che ha avuto più sostegno, perché in rapporto al PIL dell'Italia la banca centrale rispetto agli altri paesi detiene più bond governativi. Quindi è interessante anche capire questo grafico e ci fa capire anche che la Grecia è invece quella che in questo momento tecnicamente ha avuto meno sostegno degli altri paesi. Poi c'è la Spagna al secondo posto, la Francia al terzo e quindi la Germania poi insieme all'Olanda seguono tra i principali paesi. Quindi effettivamente il piano pandemico che ha consentito alla banca centrale di comprare più BTP che bondo, qualora occorresse, rispetto alle regole precedenti che vedevano che la BCE doveva comprare titoli di Stato in proporzione alla partecipazione di questo paese, al capitale della banca centrale europea, la cosiddetta capital key, il piano pandemico ha cambiato questa regola e in effetti si vede in questo grafico perché da quando è scoppiata la pandemia sostanzialmente la quota di BTP acquistata è superiore a quella certamente di Bund, nonostante la Germania abbia una capital key superiore rispetto all'Italia. Ma senza scendere in queste tecniche d'età è importante anche questo grafico per farvi capire l'atto BTP, quanto importante anche sia la presenza, l'influenza della banca centrale europea e qualora questa chiaramente dovesse ridursi, venire meno nei prossimi mesi eccetera eccetera, barra anni. È chiaro che questo avrebbe un impatto, potrebbe avere un impatto sui BTP, sui titoli di Stato italiani così come anche quelli degli altri paesi. Vediamo appunto i bonus che seguono a ruota. È importante capire quindi tutto questo perché nella settimana, ripeto, delle banche centrali, del tapering, del non tapering, degli stimoli eccetera eccetera, il contesto vede una fortissima record mai stata così ampia presenza delle banche centrali nei debiti pubblici dei vari paesi, sia dell'Eurozona, del Giappone e anche, seppur meno, negli Stati Uniti con livelli sempre più crescenti. Quindi questo è un tema importante perché questo ha portato i rendimenti a schiacciarsi e i prezzi a salire e qualora poi la banca centrali dovesse fare marcia indietro è chiaro che sarebbe un attore in meno, un attore importante e potrebbe innescare anche un fenomeno opposto. Questo non lo sappiamo ma ce lo dice appunto la teoria economica della domanda e dell'offerta su un asset finanziario. Volevo appunto segnalarvi questo perché mi sembra che nella settimana clou in cui le banche centrali sono le protagoniste del mercato, avere un po' il quadro d'insieme della forte presenza di queste banche ormai nel mercato dei titoli di Stato può aiutarci a capire, a comprendere meglio anche l'atto investitori consapevoli, qual è il contesto attuale rispetto a quello appunto per esempio come vediamo nel 2006-2008 quando praticamente la presenza delle banche centrali nei government bonds era pressoché nulla. Per oggi è tutto, alla prossima puntata.